Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro gioco. Siamo ancora su Genshin Impact perché sono appena uscite tutti i nuovi dettagli ed anche alcune chicche che verranno proposte all'interno del gioco a partire dal rilascio della versione 1.2 che ormai è praticamente alle porte. Quindi giorno 23 avremo a disposizione la nuova espansione del gioco 1.2 con tutte le aggiunte di cui abbiamo già parlato che se non avete visto vi lascio il video nelle schede e poi alla fine del video ve lo lascio tramite i consigliati in modo tale da poter guardare tutte le novità qualora ve le siate perse. Oggi praticamente stamattina sono usciti i nuovi dettagli. Nuovi dettagli che praticamente faranno da cornice a tutto ciò che appunto andremo a vedere in questa nuova espansione. Partiamo subito con ovviamente l'aggiornamento che ci ricorda per l'appunto che la versione 1.2 si chiama The Shark Prince and the Dragon. Quindi abbiamo a disposizione la praticamente notizia dove il gioco viene aggiornato e avremo comunque una compensazione di 300 primogens e poi vabbè verranno aggiunte le nuove aree, le nuove meccaniche e tutte le altre robe che comunque vi ho già spiegato nel video a parte. Mentre invece le notizie un po' più succolenti arrivano qui dove sono stati fatti vedere i nuovi equipaggiamenti presenti all'interno del gioco che ci accompagneranno all'interno di questa versione. Dove abbiamo la spada 5 stelle quindi la nuova arma che verrà introdotta nel gioco arma 5 stelle summit shopper arma 5 stelle ovviamente simbolo di un patto leggendario questa lama così affilata può tagliare addirittura la cima di una montagna. Ovviamente fa parte sempre del set come quello che l'abbiamo visto simile a quello Vortex se ci fate caso anche dal punto di vista di texture di colore è molto simile agli equipaggiamenti Vortex. Infatti come potete vedere anche nella descrizione dell'arma abbiamo l'effetto che è praticamente identico quindi incrementa la potenza degli scudi del 20%. Inoltre attaccando ed effettuando comunque con successo un attacco normale o caricato perché scoring hits quindi praticamente coinvolge sia attacchi normali che caricati aumenta l'attacco del 4% per 8 secondi fino a un massimo di 5 stack. Questo effetto può essere ripetuto ogni 0,3 secondi inoltre mentre si è protetti da uno scudo l'attacco viene diciamo l'effetto di questo attacco viene incrementato del 100% quindi immaginate quanto può incrementare l'attacco grazie a questo tipo di arma. Ma veramente veramente tanta roba come si ottiene ovviamente tramite il banner che vedremo tra poco con le nuove armi 5 stelle che verrà rilasciato insieme al banner di Albedo. Esattamente perché Albedo avrà ovviamente il banner tutto suo ed è già uscito con la preview dei personaggi che saranno diciamo sinergici insieme a lui. Qua abbiamo comunque anche una dimostrazione per quanto riguarda della nostra arma che comunque come potete vedere aumenta l'attacco e quando siamo protetti dallo scudo ci fa diventare più potenti. Poi arma 4 stelle festering desire che questa è l'arma che tra l'altro si ottiene tramite l'evento che farà da cornice a tutto questo nuovo update e alla nuova mappa che andremo comunque ad esplorare a partire dal giorno 23. Dove abbiamo un'arma che praticamente ha un ottimo comunque effetto incrementa l'elemental skill damage del 16% e l'elemental skill crit rate del 6% Quindi incrementa il danno che effettuiamo con la skill elementale del 16% e inoltre incrementa la sua possibilità di critico del 6%. Interessantissima questa cosa perché alcuni personaggi che comunque utilizzano skill elementali a rapida ricarica, a me viene in mente Bennett ad esempio, Con questa spada potrebbe effettivamente rendersi interessante. Tra l'altro la statistica primaria è l'energy recharge Quindi veramente potrebbe essere molto interessante per Bennett, anche se per Bennett avendo la sacrificial probabilmente terrò quella Che mi resette il cooldown e quindi mi permette di spammare magari due volte di fila lo stesso attacco e mi consente di ottenere più orb per avere subito la burst Però anche questa non è male perché avere l'attacco elementale incrementato e anche il critico permette comunque a un personaggio come lo uso io o Bennett ad esempio di poter essere incisivo anche solo utilizzando le skill Quindi vedremo, vedremo, potrebbe essere un'ottima sostituzione per Bennett Come si ottiene quest'arma? Completando la quest di storia, Pryceps Cretaceous Chapter Act 1 e l'evento Festering Desire per ricevere questa spada esclusiva Che ovviamente farà parte come già spiegato nei video precedenti sarà praticamente la ricompensa che otterremo dal nuovo evento che verrà appunto startato durante l'espansione 1.2 Qui abbiamo una dimostrazione per quanto riguarda ovviamente il danno che viene aumentato e anche il critico perché giustamente col numero in grosso si ha la possibilità appunto di vedere il danno in critico Il personaggio che equipaggerà The Festering Desire durante l'evento Chalk Prince of the Dragon riceverà questi buff speciali nell'area di Dragonspire Quindi il personaggio che guadagnerà un bonus del danno tramite gli Scarlet Quarzess e avrà anche un addizionale crit damage ai nemici di Dragonspire Quindi ovviamente viene potenziato il personaggio che ha questa spada durante l'evento nella zona ovviamente interessata Questo ne avevamo parlato sempre nell'altro video che ho fatto ne avevamo già parlato però comunque qua stanno praticamente confermando la situazione Inoltre il personaggio che equipaggia quest'arma durante l'evento accumulerà lo Sheer Cold in una maniera più lenta E guadagnerà anche un bonus crit rate contro i nemici del Dragonspire area E inoltre la persona che equipaggia quest'arma durante l'evento infliggerà più danni ai nemici della zona di Dragonspire Quindi diciamo che quest'arma non solo busta grazie all'effetto che si ritrova dell'arma stessa Ma anche grazie a questi bonus speciali che potremo sfruttare durante tutto il periodo di questo evento Spada a quattro mani, Snow Tombed, Star Silver Una spada antica, vabbè ok la descrizione non ci interessa più di tanto Però come si ottiene? Ecco questa già è interessante Nel mentre si esplora la zona di Dragonspire Bisogna rispettare alcuni criteri per ottenere la spada E sbloccare anche il suo blueprint Quindi sarà figo perché sbloccare il blueprint ci permetterà comunque di poterne produrre di più E quindi aumentare i livelli del refinement Tutte queste armi in realtà hanno dei bonus molto molto interessanti Tra l'altro hanno il Physical Damage Bonus Up Che è una cosa che mi piace parecchio Soprattutto per personaggi che utilizzano attacchi fisici a manetta Sto pensando a Razor per esempio Che comunque equipaggiare una spada del genere per Razor è assolutamente ottimo Ma anche altri personaggi potrebbero effettivamente far Potrebbe far gola un'arma del genere Perché comunque abbiamo Physical Damage Bonus come statistica E Base Attack come ovviamente altra statistica dell'arma Quando attacchiamo un nemico con un attacco normale o caricato Abbiamo il 60% di possibilità di formare un Everfrost Eye Cycle sopra di loro Che infliggerà 80% danni AOE in base all'attacco Gli avversari che invece saranno affetti da Krio Riceveranno un 200% come danno addizionale E questo effetto può essere ripetuto una volta ogni 10 secondi Quindi ovviamente personaggi o comunque team Che sfruttano il Krio come status elementale Certo è un po' difficile magari collegare le stesse caratteristiche Però magari fare un Super Conduct Puoi fare un Krio e continuare ad attaccare Non so potrebbe essere magari una soluzione di qualche team Anche perché comunque Super Conduct è il primo esempio che mi è venuto in mente Dato che per l'appunto Razor e Keia sono i miei praticamente baluardi del team che utilizzo Dove appunto con Keia e Razor faccio Super Conduct E poi con Razor attacco e faccio danni praticamente a tempesta Quindi questa potrebbe essere comunque un'ottima arma per diversi personaggi Qua ovviamente si vede nelle mani di Chongyun Che teoricamente potrebbe essere uno dei cantitati migliori Ma in realtà come ben sappiamo tramite la sua Elemental Skill I danni vengono convertiti in Krio Damage Non in Physical Damage Quindi purtroppo per Chongyun io penso che questa spada sia un vero spreco A meno che si utilizzi soltanto per attaccare ma non utilizzare l'Elemental Skill di Chongyun Soprattutto se lo si possiede a Costellazione 2 Che riduce i cooldown dell'Elemental Skill e delle Burst Non saprei fino a che punto Comunque andiamo avanti Dragon Spine Spear Questa è una lancia ovviamente 4 stelle Che si può ottenere nel mentre si esplora Wyrmest Valley You can collect strange teeth This will unlock the Festering Fang World Quest Una volta completata questa quest si avrà la possibilità di sbloccare il suo blueprint Quindi bisognerà esplorare questa nuova area La Wyrmest Valley Che sarebbe quella valle dove vi ho già spiegato sempre nell'altro video Che praticamente si avrà la possibilità di collezionare dei denti di drago O una cosa del genere E possibilmente poi completando anche la quest di Festering Fang Avremo la possibilità di trovare il blueprint E di sbloccare il blueprint Quindi avremo la possibilità anche per quest'arma di incrementarne i refinement Anche in questa abbiamo il Physical Damage Bonus Che mi fa veramente ingolosire sul mio Zhongli Dato che il mio Zhongli è praticamente puntato sul danno fisico Ho praticamente fatto build di Zhongli fisica Tutta fisica Questa veramente mi intriga parecchio Se non fosse per l'effetto che non mi fa impazzire Perché comunque tra effetti simili preferisco decisamente la Crescent Pike Almeno mi dà un danno addizionale In base ai danni che riesco a fare E mi dà anche il Physical Damage Bonus In più Che comunque schifo non fa Però anche questa comunque possedendo Physical Damage Bonus Può essere comunque molto utilizzabile da diversi personaggi Ha lo stesso effetto della Great Sword che abbiamo visto poco fa Quindi attacchi normali e caricati Hanno il 60% di possibilità di formare l'Everfrost High Cycle Sopra i nostri avversari Che infliggono un 80% di danno a OE in base al nostro attacco Mentre invece gli avversari che avranno lo status Crio Su di loro e verranno colpiti da questo High Cycle Riceveranno il 200% di danno in base all'attacco E questo effetto può essere ripetuto una volta ogni 10 secondi Ogni 10 minuti era ciao Ogni 10 secondi E qua come potete vedere abbiamo anche la GIF Che praticamente fa vedere l'effetto di questa lancia Per esempio su Xian Ling potrebbe essere figo Perché Xian Ling comunque fa molti attacchi rapidi Bonus fisico su di lei si applica in maniera eccellente Quindi potrebbe essere un'alternativa E poi abbiamo Frostbearder Che è il Catalyst 4 Stelle Come si ottiene? Once the Frostbearing Tree has reached level 10 Travelers will be awarded a blueprint for forging Dannato a me Frostbearder Quindi dopo che avremo portato il nostro Frostbearing Tree a livello 10 Avremo la possibilità di poter ottenere il blueprint Per poter craftare il Frostbearder Frostbearder che è per l'appunto il Catalyst 4 Stelle Che avevamo già visto anche nella presentazione della patch 1.2 Che ha praticamente lo stesso effetto anche delle altre armi che abbiamo visto poco fa Tranne per il fatto che non possiede Physical Damage Bonus Perché sarebbe abbastanza inutile Ma possiede una percentuale in attacco Che è di base del 9% Le percentuali in attacco in realtà non mi fanno impazzire più di tanto Se devo essere sincero preferisco l'attacco flat Normale Senza percentuali Se proprio dobbiamo aggiungere Tipo attacco c'è più 120, più 130, più 150 Anziché 9% e così via Però alla fine è sempre un 4 stelle È un'arma che possiamo comunque avere Possiamo craftare Quindi non ci si sputa assolutamente sopra E poi qua ovviamente fa vedere l'attacco Fa vedere comunque la possibilità dei danni Che si possono effettuare tramite questo Catalyst Tra l'altro per il Catalyst Mi sembra molto più facile attivare l'effetto E fare più danni Rispetto comunque alla lancia e alla spada Perché se noi calcoliamo tutto il moveset Di un attacco completo tra lancia e spada Solitamente abbiamo un attacco caricato Che fa volar via il nostro avversario Quindi è difficile che comunque Il pezzettino di ghiaccio Riesca a colpire precisamente il nostro avversario Mentre appunto sta volando da chissà dove Mentre invece col Catalyst Come potete vedere È una sorta di effetto Che si triggera una volta ogni tanto Mentre si attacca E quindi è molto più semplice da applicare Anche agli altri avversari Almeno ad occhio È quello che sto vedendo così Ad occhio Poi vedremo effettivamente nel dettaglio Se avrò ragione oppure no I nuovi artefatti Che ovviamente possiamo ottenere Tramite i nuovi domain Quindi il Blizzard Strayer Che ovviamente sarà il set Che andrà a potenziare tutti I personaggi di tipo Krio E il nuovo Heart of Depth Che aumenterà praticamente la potenza Dei nostri personaggi Hydro Due pezzi Abbiamo il Krio Damage Bonus Nel 15% Mentre invece i quattro pezzi Incrementa il Crit Rate Quando si attacca un nemico Affetto da Krio E se il nemico addirittura è Frozen Abbiamo un ulteriore incremento Del nostro Del nostro critico Che potrebbe essere interessante Perché di base parte il 20% E poi se un nemico è Frozen Addirittura il critico passa all'80 Quindi praticamente Andiamo a A sfracellare di critici Ah no No Incrementato di un ulteriore 20% Ok quindi 20 di base Più 20 se è Frozen Quindi in totale 40 Ok avevo letto 80 inizialmente Invece un altro 20 Quindi 20 di base Se è affetto da Krio Mentre invece se è Frozen Quindi congelato Abbiamo un ulteriore 20% Carina Come Diciamo come composizione Ma un full set di questo Sinceramente non mi fa impazzire Più di tanto Buono invece il pezzo a 2 Che aumenta comunque il danno elementale Perché comunque Questo soprattutto per Chongyun Questo set effettivamente per Chongyun Potrebbe essere molto 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 interessante Sia come main DPS Ma anche in generale Proprio Penso che questo sia uno di quei set perfetti Che calza a pennello Per Chongyun Veramente Veramente Ottimo Sono Sono abbastanza contento Perché Chongyun ce l'ho Però Non riesco a sfruttarlo al 100% Perché comunque ho un team completamente diverso adesso Però con questo set Potrei organizzarmi a creare un altro team Con Chongyun come protagonista E poi Heart of Depth Che praticamente aumenta Hydro Damage Bonus del 15% Con 2 pezzi Mentre invece 4 pezzi Dopo aver utilizzato una skill elementale Incrementa l'attacco normale caricato Del 30% per 15 secondi Questo è un set Che io sicuramente Andrò a fare per la mia Mona Mona Con questo set Mi diventa Una vera belva Non vedo l'ora appunto Di poterlo fare completo Magari trovare anche Hydro Damage Bonus Aggiuntivo Crit Rate E Crit Damage E' Veramente Veramente Figo Questo è un set Che anche per Tartaglia stesso E' un qualcosa di fenomenale E' veramente un qualcosa di fenomenale Quindi Tutti Tutti Tartaglioni Che ci sono in giro Diventeranno ancora più forti Quindi Buon per loro Ma anche diversi personaggi Come la stessa Mona O anche Xingyu O tanti altri personaggi Che comunque All'interno di un team Hydro Possono fare veramente tanta roba Poi Vabbè Ritorno Del Battle Pass Che ovviamente Potrà essere rinnovato Dopo L'espansione 1.2 Che verrà introdotto A giorno 23 E per poterlo fare Bisogna essere Almeno Rank 20 Qua invece Abbiamo altre novità Per quanto riguarda L'evento Vero e proprio The Chalk Prince And The Dragon Quindi abbiamo Praticamente le date Dove appunto Abbiamo l'inizio Che sarà Per l'appunto Dopo L'1.2 Dopo la versione Cioè dopo l'update Alla versione 1.2 Alle 3.59 Che per noi Europei E' un'ora in più Quindi alle 5 Del mattino E lo shop Invece Durerà Fino al Praticamente Il 12 Di gennaio Del 2021 Sempre Alla stessa Ora Quindi alle 5 Del mattino Bisogna essere Rank 20 O superiore E aver completato Il prologo Atto 2 For a tomorrow Without tears Per poter Comunque iniziare Questo evento Quindi datevi una mossa E vedete che dovete fare Prerequisiti Invece Della story quest Perché ovviamente Sbloccheremo Anche il capitoletto Di albedo Avremo Praticamente Il completamento Della quest di albedo Oppure Princeps Cretaceous Chapter Per sbloccare Per sbloccare The chalk prince And the dragon Event Quindi dovremo Completare la storia Di albedo Durante questo evento Però c'è da dire Che la storia di albedo Non richiederà Una story key Per sbloccarlo Quindi tutti quanti Potremo subito Fare la quest Di albedo Proprio perché Così sbloccheremo L'evento Vero e proprio Quindi fare subito La quest di albedo Cioè la mini quest Di albedo La mini storia Di albedo Per poi Iniziare a farmare L'evento La storia di albedo Ovviamente verrà aperta Dopo il rilascio Della versione 1.2 Mentre invece Senza Anzi no Questi sono i criteri Per poter fare Il capitolo Di albedo Durante Durante l'evento Bisogna essere Rank 20 O superiore Mentre invece Una volta che Finirà l'evento Ecco questo Sottolineiamolo Perché è importante Una volta finito L'evento Il capitolo Di albedo Potrà essere Sempre fatto Da ovviamente I giocatori Che arriveranno Magari più tardi A giocare Solo che Cambiano i requisiti Se prima Bisognava essere Soltanto rank 20 Per poterlo fare Se l'evento Finisce Ovvero quando L'evento Finirà Bisognerà Bisognerà essere Rank 40 O superiore E aver completato Il prologo Dell'atto 2 Furatomorrow Without Tears E avere Una story key Per sbloccarlo Quindi Durante l'evento Non bisogna sbloccarlo Non dobbiamo avere La chiave Per sbloccarlo Bisognerà essere Rank 20 O superiore E basta Mentre invece Se l'evento Finisce Bisognerà essere Rank 40 Avere una story key E aver completato Anche il prologo Dell'atto 2 Quindi questa è una cosa Molto 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 Importante Poi invece L'evento Ver e proprio Avremo la possibilità Di completare L'evento E ottenere La spada Festailing Desire Come vi ho fatto vedere Precedentemente Dopo Poi ovviamente Dopo che l'area Di Dragonspear È aperta I viaggiatori Potranno I travelers Quindi i giocatori Potranno Trovare Le Rime Worn Fragment E Rime Worn Crystals In Dragonspine Quindi all'interno Della mappa Possiamo trovare Questi oggetti Dopo che verrà aperto L'atto 1 Dovremo collezionare Queste Rime Worn Fragment E Rime Worn Crystals Per completare Le relative a quest Per ottenere Primo Gems Soldi E altre ricompense Enhance Festailing Desire To Obtain Weapon Ascending Material And Other Rewards Quindi possiamo Potenziare La Festailing Desire Per ottenere Altre ricompense Come Ascensioni E come materiali Per l'ascensione Delle armi E altre ricompense Una volta che L'evento Sarà finito Però L'esplorazione Potrebbe Anzi no L'esplorazione Non darà più Rime Worn Fragment O Rime Worn Crystals E quindi Tutti questi materiali Nel nostro inventario Spariranno Un po' come Il vecchio evento Dei Meteoriti Che se non L'avevamo scambiati All'interno dello shop Venivano poi Successivamente Rimossi Rime Worn Fragment E Rime Worn Crystals Sono degli oggetti Esclusivi Per quanto riguarda Questo evento E spariranno Dopo appunto Il 6 di gennaio Alle 3.59 Che in realtà Per noi Sono sempre Le 5 del mattino Quindi dopo l'epifania L'evento finirà E quindi Tutti i materiali Che non avremo speso Verranno tolti Verranno sequestrati Poi The Chalk Prince of the Dragon Atto 2 Che comincerà Invece A Natale Praticamente Il 25.12 E avremo La possibilità Di ottenere Glimmering Essence Attraverso Il Test Ground Challenge Quindi Altro evento Che si sbloccherà Nella seconda parte Dell'evento Che ci permetterà Di ottenere Altri oggetti Per scambiarli Ovviamente All'interno Degli shop Dedicati L'atto 3 Che comincerà Il giorno 28 Dove potremo Ottenere Le Warm Essence Tramite la Dragonic Pelegrimage No Pelegrimage Challenge Il 4 Il 4 Atto Che invece Si sbloccherà Per Capodanno Ovvero Il 31 12 E avremo La possibilità Di ottenere Miraculous Essence Tramite la Frostborn Miracle Challenge Poi Dettagli Dell'evento Tutte queste Essenze Potranno Essere Scambiate Per esclusive Ricompense All'interno Dello shop E completare Le quest In ogni Part No Completing All quest In each Of the first Three acts Will unlock One of the Festering Desire Special abilities Each time Ah Quindi Completare Per la prima Volta Ognuno Di questi Atti Ci permetterà Comunque Di sbloccare Potenzialmente Aggiuntivi Della nostra Arma Festering Desire Quindi Questa è Una cosa Abbastanza Figa Durante L'evento L'arma Avrà ovviamente Gli effetti Speciali Di cui Abbiamo Parlato Poco Fa Quindi Danno Aumentato Critico Aumentato Critter Rate Aumentato Eccetera Eccetera Potenziale La Festering Desire Durante Questo Periodo Permette Permetterà Di ottenere Enchantment Per le Armi Dei Bon Ah Quindi Dei punti Esperienza Bonus Nel mentre Si enchanteranno Le armi Ottimo Eh ok E tutto L'ammontare Delle essenze Che guadagneremo Dalle varie Challenge Quindi Le Miraculous Essence Le Warm Essence Eccetera Eccetera Scaleranno Quindi Saranno Tarate E saranno Comunque Bilanciate In base Al nostro Livello Del mondo Corrente Quindi Io che Tecnicamente Ormai Sono rank 50 Avrò Il mondo A livello 7 Quindi Avrò Le ricompense Praticamente Del mondo A livello 7 Ottimo Altro Mini Evento Che Verrà Correlato Alla fuoriuscita Della patch 1.2 Ovvero Un invogliare I giocatori Che avevano Già quittato Ai tempi A ritornare Infatti Avremo La possibilità Di poter Ottenere Una prototype Rancour Quindi Una spada A una mano 4 stelle Che solitamente Si crafta Normalmente Dal fabbro Però La potremo Ottenere Come premio Quindi Questo Diciamo È un evento Rivolto A tutti Coloro Che hanno Quittato E che Magari Tramite Questa Espansione Vogliono Ritornare A dare Una seconda Chance A questo Gioco Quindi Dopo Il rilascio Della versione 1.2 Si avrà La possibilità Di partecipare A questo Evento Ci sono Dei requisiti Ovviamente Che bisognerà Rispettare Che sono Ovviamente L'evento Durerà Per 14 Giorni Dopo Che sarà Attivato Quindi Da giorno 23 Fino Di dati A poter Comunque Sfruttare Questo Evento Bisognerà Essere Rank 10 O Superiori Avere Un login Di almeno 14 Giorni Dall'ultima Volta Quindi Bisogna Non aver Loggato All'interno Del gioco Per almeno 14 Giorni Di fila E poi Questo in realtà Non l'ho capito Che cosa Vuol dire Perché Over 45 Days Since The last Activing The Stellar Reunion Event Cioè Se la Stellar Reunion Event Lo stiamo Attivando Adesso Come facciamo A oltrepassare 45 giorni Dall'attivazione Quindi Questo è L'unico Punto Che in realtà Non ho capito Bene Possibilmente Perché mi sono Svegliato Da poco E quindi Non ci sto Capendo Nulla Però Non lo so È l'unico Punto Che Che veramente Non lo sto Riuscendo a capire Perché 14 Giorni Di login Ci sta Rank 10 Ci sta Ma questi 45 giorni Da cosa Comunque Vabbè Lasciamo perdere I dettagli Di quest'evento Abbiamo La prima fase Dell'evento Che ci permetterà Di poter ottenere O per meglio dire Che permetterà Di poter ottenere A tutti quei giocatori Che ritorneranno Primo gem Fragile resin E altre ricompense Che potranno essere Reclamate una volta sola Secondo 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 Dell'evento Passage of time Dove sarà appunto Caratterizzato Da un login reward Quindi durante questo periodo Ci saranno dei premi In login Tramite primo Gems fragile resin Hero wheat Che sarebbero ovviamente i libri E Mystic enchantment Or per le armi Terza fase Homeward path Che praticamente Sono delle quest Quindi durante questo evento Bisognerà completare Giornalmente Queste missioni Quindi non solo le daily Ma anche Questo tipo di missioni Per accumulare dei punti Una volta che si saranno Accumulati Dei punti Un tot di punti Si avrà la possibilità Di ottenere La prototype Rancor E questo bonus Ovviamente può essere Ottenuto una sola volta Tutte le quest Verranno Refresciate Quindi verranno Comunque riattivate Alle 4 del mattino Che per noi Alle 5 Quindi ve lo ricordo E quindi bisogna Reclamare le ricompense In tempo Altro step Reunion blessing Che è il doppio drop Anzi no Queste saranno Tutte cose messe insieme Che praticamente Si possono fare Quindi login Gli eventi Le missioni E si avrà anche La possibilità Di avere il drop Raddoppiato Quindi tutti i giocatori Che ritorneranno Riceveranno 3 extra opportunità Ogni giorno Per fare Per fare Dei drop Doppi Quindi si avrà Praticamente In esclusiva Senza utilizzare Resina e altro La possibilità Di raddoppiare Il proprio drop Figo sta cosa Questo può essere Utilizzato Questo può essere Utilizzato Per ottenere Il doppio Delle ricompense Dagli alberi Pietrificati Quindi quelli Dentro i dungeon I blossom Dei soldi De wealth E blossom Of revelation Che sarebbe Quello dei libri Usando la resina La resina L'original resin Quindi Al prezzo Della resina normale Si ha invece Il doppio Del reward Quindi al posto Di utilizzare La resina condensata Tu usi La resina normale E però Ottieni il drop Raddoppiato Figa sta cosa L'ammontare Del L'ammontare Del Double drop Opportunities Quindi della possibilità Di raddoppiare Il drop Si resetta Ogni mattina Alle 4 Ok Quindi anche in questo caso È giornaliero Dopo che questo evento Sarà terminato Tutti i progressi Verranno Canc No Event Ah I progressi degli eventi Saranno cancellati E tutte le ricompense Che non sono state E riscattate Saranno perse Ok Quindi Certo Quindi se tu stai Accumulando punti All'interno dell'evento Per ottenere la prototype Rancur Ma poi Dici No questo gioco In realtà non mi piace più Quitti E non vuoi saperne più Allora tutti i premi Che hai Diciamo che hai accumulato Tutti i punti Anzi che hai accumulato Ti verranno poi tolti Beh direi Abbastanza normale Però Figo Figo come evento Perché comunque Permette anche Ad altri giocatori Che avevano mollato O giocatori Che comunque Magari Vogliono Cambiare idea Possono effettivamente Riprovare E vedere Se scatta Magari Questa volta La scintilla Adesso Passiamo Alla notizia Su cosa Ecco Il banner Presente Dell'evento Di Albedo Quindi Albedo Come personaggio Ovviamente Principale 5 stelle E poi personaggi Sinergici Fischel Surcross E Bennett Bennett Molto 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 Valido Se non lo avete Io ve lo consiglio Ultimamente lo sto utilizzando Tra l'altro Lo sto utilizzando Come curatore Addirittura Perché Ha la possibilità Di ricaricare la burst In maniera Rapidissima E le sue cure Sono veramente Rapidissime Quindi A me sta piacendo Tantissimo Ovviamente Ognuno Poi ha il suo stile Di gioco Ognuno Ha la possibilità Di variare La propria strategia Ma Bennett Veramente tanta roba Ve lo consiglio Assolutamente Soprattutto se volete Andare a pullare Albedo Che giustamente Potrebbe essere Un personaggio Interessante Da avere in sinergia Magari con un Zhongli Da avere in sinergia In generale Anche all'interno Di un party In generale Potrebbe essere Interessante Sarcrowse Fighissima Un personaggio Che penso Meriti molto Più spazio Rispetto a quello Che in realtà Non le sto dando Purtroppo Però Veramente Ottimo personaggio Fischel Invece Comoda Buona Come Danno elementale Buona anche Come DPS Solo che come DPS A me sinceramente Non fa impazzire La preferisco Più come Elemental dealer Che Come DPS Però Anche lei Personaggio Che comunque Essendo 4 stelle Serve comunque Una costellazione In più Magari per Permetterle Di essere Un po' Più Incisiva Comunque Banner Abbastanza Standard Non che mi faccia Impazzire In realtà Non credo Di pullare Più di tanto Bennett Comunque le costellazioni Un paio Già ce le ho Sarcrowse Mi interesserebbe Magari alla prima Costellazione Ma Fischel Per esempio È un'altra Che ho Con già Almeno 3 costellazioni 3 o 4 Probabilmente E quindi Non so Non so È un banner Che comunque Sinceramente Mi sento Di schippare Infine Banner Delle armi Dove Vi ho presentato Già L'arma 5 stelle Che sarà In esclusiva All'interno Di questo Banner Il ritorno Anche Del Catalyst Lo Skyward Lo Skyward Atlas E poi invece Belle Le armi 4 stelle In rate Up Soprattutto Lo Stringless Che mamma mia Se riuscisse A beccarlo Per 20 Sarebbe Veramente Veramente Figo Il Sacrificial Fragment Che è un libro Che è praticamente Il catalyst Che dimezza Il recast Cioè Dimezza Il cooldown Del recast Praticamente Dell'elemental Skill Questo su Sarcos È fenomenale Lo consiglio Veramente A tutti E poi La Favonius Greatsword Quella dovrebbe essere La Favonius Greatsword E poi La Lancia Che in realtà Le Favonius A me Non mi fanno Impazzire Più di tanto Sono molto Più propenso Verso I Sacrificial Che comunque Ti danno La possibilità Di Poter Azzerare Il cooldown Effettuando Un attacco Tramite Elemental Skill Quindi Veramente Veramente Figa Come meccanica E poi Lo Stringless Che veramente Su 20 O comunque Su qualsiasi Personaggio Elementale In generale È una bestia È veramente Un arco Eccezionale È veramente Un arco Eccezionale Quindi Non male Come bannerarmi Solo che Personalmente Parlando Non credo Di pullare Su entrambi Devo iniziare A risparmiare Io le risorse Perché In futuro Ci saranno Tante belle Robette Che sicuramente Mi interesseranno Di più Comunque Detto questo Spero che Questo video È venuto Un po' Più lunghetto Ma spero Che vi possa Essere Piaciuto Perché Comunque Andiamo a Leggere E vedere Insieme Perché Io non Le ho viste Prima Quindi Le ho guardate Insieme a voi Praticamente Tutte le novità Che Anzi Tutti i nuovi Dettagli Più che novità Perché Già le sapevamo Le novità Però Questi sono Dettagli Che Comunque Fanno piacere Leggere Proprio per Avere Un'idea Chiara E Trasparente Di quello Che Andremo Ad affrontare A breve Quindi Detto questo Vi ringrazio Fatemi sapere Al solito Quali saranno Le vostre Intenzioni E noi Ci becchiamo Sempre con Un prossimo Video O con Una prossima Live Bye